Ciao ragazzi, io sono Sama Palotti Ehm Scusate Ecco il video che ci siamo costato E siamo Sama Palotti E ho scritto Il Castillo Problema Il link fu un protofoto Della storia indagina Per il dettaglio di una manzana è da 2003-2004 Adesso cominciamo con la storia occidente Recomando per usare la storia Ehm 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 Ehm